Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio TP termometro politico del 13 aprile del 2022 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Giorgia Meloni rimane primo partito con Fratelli d'Italia, rimane stabile al 21,5%, il PD arretra e scende al 20,9%, recupera alcuni decimali la Lega che è al 16,9%, Forza Italia scende all'8,4% mentre Italia Viva al 2,5%, Azione più Europa sono al 4,8% e al 4,5% mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 13,2%. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.